Presidenti, colleghi, onorevoli colleghi, i passaggi che ho brevemente sviluppato costituiscono la descrizione dell'azione che questo Governo, di fronte ad una situazione di gravissima emergenza umanitaria e di forte compromissione della pace a livello non solo regionale, ha svolto ed intende svolgere la protezione della sicurezza di popolazioni inermi e di quei diritti umani fondamentali la cui tutela sempre ispira la nostra azione internazionale. Non v'è dubbio, infatti, che l'occupazione di ampie porzioni di territorio irachene e siriano sotto il controllo di forze terroristiche fondamentaliste rappresenti una seria minaccia alla sicurezza internazionale, così come sancito dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la numero 2170 che è stata citata. Il Governo di questo è ben consapevole e manifesta grande preoccupazione per la catastrofe umanitaria che stanno subendo le popolazioni locali. Siamo convinti di aver fino ad oggi operato tempestivamente bene nel dare una prima risposta alle richieste di aiuto che provengono da quella martoriata terra ed intendiamo continuare ad operare con determinazione, in condizioni di totale trasparenza e con il pieno supporto del Parlamento, dando piena attuazione agli indirizzi formulati dal Consiglio straordinario dei Ministri degli Estri e dell'Unione Europea del 15 agosto 2014. Anch'io ringrazio il gruppo di lavoro che in tutti questi giorni si è visto incessantemente, che ha visto quindi Estri e Difesa lavorare sempre congiuntamente, ovviamente sotto la nostra direzione, però c'è stato un lavoro importante che vorrei che voi conosceste, vorrei appunto che sappiate che insomma c'è stato un lavoro che dimostra che sappiamo lavorare bene anche come strutture, davvero è stato fatto dai nostri tecnici un lavoro fondamentale. Grazie.